Al Santa Maria della Scala si apre oggi la mostra Effetto Araki, una mostra dedicata a Nobuyoshi Araki, fotografo giapponese nato a Tokyo nel 1940 e ancora in attività. Una mostra che include più di 3.000 fotografie, una mostra quindi che ha bisogno di tempo per essere visitata e che racconta la carriera di questo grande interprete della fotografia attraverso una ventina di serie partendo proprio dagli esordi, dalla prima raccolta di fotografie dedicata a questi due ragazzini vicini di casa, poi da allora prosegue con una selezione ragionata con l'artista, selezionando le serie più significative nelle varie decadi. Per la mostra di Siena Araki ha realizzato appositamente dei nuovi lavori, in particolare una serie intitolata Araki's Paradise e una nuova installazione in cui compaiono solo dei guanti bianchi. Ci sono ovviamente in questa mostra anche quelli considerati i capolavori di Araki, quindi dai Bondage alla serie dedicata alla moglie Yoko, la racconta del loro viaggio di nozze, Sentimental Journey, accompagnato in questo caso da Sentimental Night in Kyoto, per la prima volta presentata in Italia, una raccolta di una tontina di fotografie che in realtà sono dei positivi e dei negativi. In mostra sono presenti anche due serie molto importanti e senza altro quella più conosciuta di Nobuyoshi Araki, Sentimental Journey, il viaggio di nozze con la moglie Yoko nel 1972, toccante, emozionante e molto intimo. Accanto a questa raccolta c'è Sentimental Night in Kyoto, una raccolta particolare perché in realtà sono dei negativi rifotografati, che noi quindi vediamo come positivi e che raccontano di una notte passata a Kyoto con la moglie Yoko. Siamo al sesto piano del Palazzo Squarcialupi, siamo insieme a Filippo Maggia, alla dottoressa Sani e al mio responsabile Roberto Amari per quanto riguarda l'inizio di una mostra straordinaria curata per l'appunto da queste persone, il curatore è ovviamente Filippo Maggia, Nobuyoshi Araki, effetto Araki, perché vogliamo trasmettere, tradurre, evidenziare alla nostra città e a tutto il mondo 50 anni di attività diversa, articolata, estremamente invasiva di uno dei più grandi fotografi del mondo. Siamo sicuri che questa mostra avrà una risonanza internazionale perché il livello è altissimo, il livello anche del curatore è altissimo e noi siamo sicuri che sarà un successo straordinario e che porterà il sesto piano del Palazzo Squarcialupi ancora una volta nel mondo. Questo è il nostro obiettivo, è una mostra che narra di tante storie, di tante storie a colori in bianco e nero, tante provocazioni, un modo di intendere la fotografia che non è solo trash e non è solo bondage, è un modo di intendere la fotografia assolutamente innovativo, assolutamente unico. Effetto Araki mi sia consentito è un titolo che ho inventato io sulla scorta del cinema francese e che il curatore ha apprezzato fin dal primo momento. Venite a Siena e vedrete una mostra straordinaria che potrete portare nel cuore in tutto il mondo. Siena mette insieme il Medioevo e l'ultramodernità.